Mi trovo ad Agropoli, località Trentova, presso il New Blue Angel per incontrare il titolare Antonio Volpe e per parlare dell'evento che ci sarà qui domenica. Si tratta del Next Opening, officina del panino con lo chef Franco Marino. Buonasera a tutti, vi invitiamo presso il New Blue Angel, ad Agropoli, località Trentova, di cui si tratta questa nuova apertura di un altro ramo del Blue Angel, un ramo panino teica. Abbiamo invitato lo chef Franco Marino, nonché il mio amico di scuola, e così facciamo una collaborazione insieme. Si trattano dei panini gourmet con prodotti rigorosamente del territorio del Cilento. Da chi è nata l'idea? Si, l'idea di aprire questa paninioteca è nata da me. Contattai Franco, che è un carissimo amico, dicendo mi devi dare una mano. Franco subito, si ok, ti do una mano e collaboriamo insieme. Va bene, perfetto, è nata questa collaborazione insieme con Franco. Invitiamo quindi tutti i telespettatori a venire domenica alle ore 19 qui, presso il New Blue Angel. Ricordiamo intanto che oltre all'officina del panino che sarà inaugurata, questa struttura, questo bistro, offre anche altri servizi. Sì, abbiamo il servizio di gelateria, che faccio rigorosamente io, cocco e talleria, bar, prima colazione, abbiamo pizzeria. Abbiamo ampliato questo ramo nella paninoteca. Ciao a tutti ragazzi, allora, innanzitutto ringrazio tutti quanti le persone che mi seguono e vi volevo invitare il 27 gennaio ad Agropoli al bar New Angel per l'inaugurazione del panino gourmet. Veramente un panino fatto con prodotti campani, con un pane veramente eccezionale del cilento e ci terrei ad avervi lì il 27, quindi sarei onoratissimo e vi aspetto in tanti. Grazie a tutti.